Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Face to Face. Il nostro ospite di oggi è Salvatore Mafotta, fondatore di Landing Solution. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Landing Solution è una società che vanta un'esperienza ultradecennale nella settore dei servizi digitali per le banche e le finanziarie. Ha iniziato dodici anni fa con la prevenzione del rischio delle frodi per poi ampliare le sue proposte con il CRM che l'anno scorso è stato lanciato una nuova edizione con un CRM integrato di ultima generazione che è Landing Sales e oggi Salvatore è con noi per presentare due nuovi due nuovi prodotti che vanno a completare l'offerta dell'azienda che consentiranno agli operatori del credito di affidarsi a Landing Solution per l'intero processo di onboarding sia in presenza che da remoto. Salvatore di cosa si tratta? Grazie Jennifer. Ci piace parlare di due prodotti separati sebbene sono prodotti che integrati soddisfano la stessa richiesta e quindi la stessa esigenza di onboarding digitale. quindi l'identificazione della clientela e la possibilità di firmare della documentazione dei contratti con qualunque tipo di firma digitale. Parliamo di due prodotti perché andiamo a soddisfare due esigenze diverse che sono quella della identificazione e firma remota e della identificazione firma in presenza che spesso è sottovalutata quanto diciamo l'identità digitale, la firma digitale è qualcosa che si può applicare chiaramente in presenza già dal momento stesso della identificazione. Infatti noi abbiamo adesso lanciato sul mercato la nostra applicazione Nendismart che è un brevetto ottenuto nel 2019 quindi abbiamo lavorato molto per la sua industrializzazione, è un brevetto che presidia la identificazione in presenza fatta quindi da un operatore aiutando e supportando l'operatore, il funzionario di banca e innescando il processo di identificazione utile a qualunque diciamo firma digitale o qualunque identificazione digitale semplicemente riprendendo con il proprio smartphone il documento di identità. Tra l'altro questo processo di identificazione in presenza è un processo che rientra nella certificazione che abbiamo ottenuto come Trust Service Provider, infatti Lending Solution è una delle prime società in Italia a ottenere questo tipo di certificazione, che è una certificazione nuova in funzione di nuovi standard ETS internazionali proprio a presidio dell'identity proofing, quindi di questa attività di identificazione. Quindi il nostro know-how, il nostro know-how, la nostra app è funzionale a qualunque tipo di firma, dalla firma elettronica semplice a una firma elettronica qualificata, quindi comunque oggi Lending Solution è in grado di soddisfare tutte queste esigenze in maniera integrata partendo dall'identificazione in presenza ma arrivando anche all'identificazione remota grazie appunto a strumenti certificati come Trust Service Provider. C'è qualcos'altro che gli operatori del credito devono sapere riguardo all'identificazione del cliente? L'identificazione del cliente può essere fatta anche per scopi diversi da quella della firma digitale come chiaramente l'identificazione utile all'antiriciclaggio, altra cosa importante è che Lending Solution è anche Speed Service Provider, quindi siamo nelle condizioni di utilizzare l'autenticazione Speed per identificare la clientela sui nostri sistemi, sui sistemi dei nostri clienti. Perfetto, e invece per quanto riguarda la firma digitale che cosa proponete? Per firma digitale noi proponiamo appunto delle soluzioni integrate che partendo dalla identificazione consentono alla clientela di far firmare in maniera dinamica qualunque tipo di modulisti utile al processo antiriciclaggio come ad esempio il questionario di adeguata verifica in maniera diciamo controllata online con una procedura guidata e con qualunque tipo di firma. Quindi come dicevo noi proponiamo soluzioni sia di firma elettronica semplice che firma elettronica avanzata che infine firma elettronica qualificata. Diciamo quindi gli operatori del credito trovano in voi un punto di riferimento un po' per tutto il processo diciamo che parte dall'identizzazione del cliente prosegue con la firma digitale arriva poi volendo anche alla gestione del cliente con un CRM avanzato il tutto accompagnato dai controlli automatici antifrode e anche antiriciclaggio. Assolutamente sia automatici che con un presidio con un operatore a seconda del livello di presidio che si vuole stabilire nel processo di onboarding. Ok e diciamo che un po' qui avete un po' chiuso il cerchio del del cliente e non so se avete anche altre idee in programma o se vi fermerete qui per quest'anno che intenzioni avete? Guarda in realtà stiamo proprio lanciando anche la possibilità per i nostri clienti di notarizzare i nostri report antifrode o la modulistica o la reportistica in un sistema di blockchain. La notarizzazione sulla blockchain è un esempio di certificare l'autenticità della documentazione con qualunque soggetto esterno. Benissimo Salvatore allora ti ringraziamo per averci dato questa anticipazione e spero che torneremo poi a parlare anche di questo non appena il servizio sarà lanciato. Assolutamente. E allora grazie per essere stato con noi e alla prossima salutiamo i nostri ascoltatori salutiamo Salvatore Mafotta grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima.